Raggiù! Un assaltatore nemico! Guarda, qui c'è un nemico! Vedo un medico! Guarda, qui c'è un nemico! 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 Vi controllo all objectifs! Guarda, controlliamo tutti gli obiettivi! Un momento! Ragazzi! Ho preso l'obiettivo! Qualcuno potrebbe curarmi! Guarda! 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 vedo un carro attenzione è un carro nemico la c'è un medico nemico an enemy airships la c'è un ricognitore c'è un assaltatore quel ricognitore è uno dei loro il mitragliatrice nemica localizzata we control all objectives vedo dell'integno vedo riportori 영ica uilang avarma fuori 我 Grazie a tutti.